Al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2024-2025 per il liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo di studio che formerà ragazzi con ambizioni imprenditoriali per sviluppare competenze adeguate per promuovere i prodotti e i marchi italiani nel mondo. In Campania sono 17 le scuole che con l'attivazione del nuovo indirizzo amplieranno la propria offerta formativa, 7 a Caserta e provincia, 5 a Napoli, 2 nel Beneventano, 1 ad Avellino e 2 nel Salernitano, o meglio il liceo Regina Margherita di Salerno e il Pomponio Leto di Teggiano. Il liceo del Made in Italy rappresenta una delle novità più sorprendenti per rinnovare l'istruzione italiana. Il programma prevede la presenza di materie giuridiche, letterarie, economiche e informatiche con l'obiettivo di preparare e formare la classe dirigente del futuro, rendendola capace di tutelare e promuovere le eccellenze italiane appartenenti ad ogni settore produttivo. Per ridurre la distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro, inoltre, sono previsti tirocini in azienda e presso gli enti territoriali che vorranno collaborare con le scuole e diverse ore di insegnamento da dedicare a due lingue straniere. Il via libera per il nuovo e innovativo percorso liceale in Campania è arrivato direttamente dall'assessore regionale alla scuola, Lucia Fortini, mentre le iscrizioni che si chiuderanno il prossimo 10 febbraio potranno essere effettuate online sulla piattaforma unica messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione.